Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app! Sono Giuseppe, ho 17 anni e vengo da Cosenza. Il ciuffo per me è molto importante, diciamo che è il mio cavallo di battaglia. Il mio intento è quello di diventare un uomo di successo, ad esempio diventando Presidente della Repubblica. Fratelli d'Italia, perché vorrei rendere orgogliosa mia madre. Dov'è la vittoria? Dov'è la gloria? E viva il Presidente della Repubblica. Giuseppe, quando ha in mente una cosa, si pida per spinimento. Sa quello che vuole, sa quello che dice, e riesce sempre a ribaltare tutto. Secondo me lui deve fare politica. Io sono talmente ambizioso che al collegio prenderei anche il posto del preside. massimo un'ora di lezione. Più gite per tutti. Preside, stia attento perché al collegio le darò filo da torcere. Grazie. 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 Grazie.